Buonasera a voi, benvenuta Sara Ferrari e buona serata a noi. Sono molto contenta di questo incontro e del tema a cui l'incontro è dedicato e anche a tenerlo, a proporcelo sia Sara Ferrari che da tempo si dedica allo studio, all'ascolto e allo studio e all'interpretazione della lingua poetica della Bibbia e lo dico in questo modo piuttosto generico e generale. Insegna lingua e cultura ebraica all'Università Statale di Milano e presso il Centro Culturale Protestante sempre di Milano. Si occupa in particolare poi della letteratura ebraica moderna e contemporanea e ha al suo attivo una serie di pubblicazioni. Questo lo vedete qui, forse uno dei primi è quello dei 3.000 anni di poesia d'amore. Ecco che io lo so di averlo trovato allora come un talismano effettivamente prezioso. Bene, vorrei quattro pensieri di introduzione. Uno, se mi è permesso, parte da una citazione di Amo Sos in Le parole degli ebrei e di Tua Feltrinelli dove io ho trovato, come dire, posto per la mia attenzione all'universo legato al testo biblico, alla lettura e all'interpretazione e dice non è questione di sassi, tribù, cromosomi non sa da essere archeologi, antropologi o genetisti per tracciare e dare corpo al continuum ebraico non si ha neppure da essere ebrei osservanti neanche ebrei neanche antisemiti di fatto basta essere lettori ecco questo continuo ebraico che si concretizza e prende corpo nell'essere lettori l'ho sentito come una sorta di possibilità e conferma di legame, di continuità in questi suoi sprendi diversi intitolati gli ebrei il poeta israeliano Yehuda Amichai scriveva gli ebrei non sono un popolo storico neanche un popolo archeologico sono gli ebrei sono un popolo geologico allora dentro il continuum dentro questa geologia diciamo che arriva arriva fino a noi e si prende questa giornata la poesia della Bibbia dicevo prima penso che sì nella Bibbia ci sono riconosciuti e studiati molti testi identificati come parte poetica tipologia testuale poesia ma penso che non sia eccessivo comunque penso che poi il percorso di Sara ce ne darà motivo penso che non sia proprio eccessivo pensare che in realtà la lingua della Bibbia è una lingua poetica e quando dico lingua poetica voglio dire primo per il gesto a cui si riferisce il primo gesto è la nominazione che coincide con la creazione e che passa dalla parola quel gesto nel giro di pochi capitoli passa al ben Adam passa mi piace non dire Adamo solo che riprende il gesto riconoscendo e rinominando e poi mi viene da dire per tutto il suo percorso la Bibbia questo fa se non in qualche modo indagare riconoscere nominare la complessità dell'avventura umana tra cielo e terra in quello che smargina lassù in quello che in quello che sta qui in quello che ci sprofonda e in quello che ci innalza da questo punto di vista mi viene da dire è poeticamente archetipica la lingua della Bibbia e ha della poesia la gran forza di non dire tutto di non dire tutto perché vuole dire di più di tutto dire tutto vuol dire che quello che abbiamo da dire è misurabile possiamo dire tutto mentre qui quel che si adegua ripeto è più di tutto ed è una continua ricerca e allora e di questo la poesia è maestra nel senso che si guarda bene dal dire tutto procede per vuoti per buche per salti per silenzi per omissioni ripeto raramente per esplicitezze e quando è esplicita è eccessiva turbante addirittura e peraltro che cosa chiama convoca quello che la poetessa russa Marina Svetaiva definisce bene la complicità creativa di chi legge è impossibile leggere il testo della Bibbia senza sentirsi sollecitati non c'è scampo a questa complicità non è solo capire non è solo capire è una complicità creativa bene Davide 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 è da questo punto di vista potremmo dire tra i poeti principi comunque dei nomi del cioè pratica in particolare e la sua storia è Davide raccoglie archetipico dell'umano forse più più di tanti altri Davide raccoglie comincia pastorello di Betalemme li ritroveremo poi noi parlo arrivando a un'altra parte di 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 altro testamento li ritroveremo noi pastorelli di Betalemme quindi comincia pastorello di Betalemme c'è quel passaggio importante in cui comunque mette a tema l'essere come dire il si consuma in lui e si celebra in lui quello che è in qualche modo un'avventura di tutto Israele e cioè il poco contro il tanto il meno contro il più il piccolo contro contro il gigante per non parlare dettaglio della ma lo dico anche perché i calendari per dire le 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 infinite le infinite antenne che ci sono in questo testo per non dire della del registro familiare di Davide assolutamente insostenibile con una che frana che frana in ogni sua in ogni in ogni suo legame bene comunque Davide pastore poeta musico re tutto tutto insieme tutto insieme ne parlavamo prima venendo la sua il suo essere poeta coincide con la regalità coincide con la colunzione ad essere re allora chiedo questa questa funzione poetica così come anche il pastore perché pastore è anche Mosè pastore è lo stesso dio il salmo 23 lo dice molto chiaramente dio è pastore il santo benedetto è pastore personale di Davide è pastore di Israele è pastore del creato è pastore dell'umanità quindi Davide si inserisce in questa linea in questa linea pastorale ma dentro il cammino che fa dove poesia e musica peraltro sono indisgiungibili in quel tempo legati alla regalità mi viene da dire se quell'essere poeta e quella lingua quindi che afferisce a questa a questa tipologia non abbia a che fare non tanto con una connotazione artistica e una caratterialità di cui sappiamo bene ma non porti con sé invece potrei dire lo stigma della profezia e della lingua della profezia allora oggi in particolare comunque il testo su cui lavoriamo è Davide cantore il lamento in morte di Saul e di Jonathan ecco anche qui il compianto è un'altra tipologia in uso nei tempi qui lo sentiremo anche ho chiesto a Sara di farci una lettura in ebraico perché omaggiando quello che diceva Paolo De Benedetti il rumore diceva non il suono il rumore che peraltro parlando di il rumore mi evoca i sassi del fiume e quindi è davidica come espressione il rumore della lingua nelle orecchie è comunque una sorta una sorta di benedizione ecco questo canto in cui so che Sara ce lo entreremo nel suo insieme e verso per verso quello che è molto interessante notare come tiene insieme Davide Shaul e Jonathan e cioè un elemento negativo nella storia di Davide avrebbe bravi motivi poi sappiamo anche le vicende diverse gli episodi diversi in cui sono narrate le possibili morti di Davide di Shaul ma non è questo il problema il problema è che Davide accomuna in un unico canto breve tenendoli insieme non fa una parte per l'uno e una parte per l'altro accomuna uno che lo perseguita e uno che ha fatto alleanza con lui gli ha dato l'arco rinnovando l'arco quella figura che è quella del dopo il diluvio quindi Jonathan si è schierato apertamente ha scelto la sua alleanza sapendo che poteva essere contro il padre allora più che mi viene da chiedere a Sara quello che pensavo era che più che uno sforzo come dire di generosità di di cordoglio che lega di grandezza di cuore di cui sappiamo essere capace peraltro Davide o forse anche una furbizia perché i calcoli è molto giovane lo aspettano vite turbate e non può fidarsi così di tutti quindi può anche essere la sua una una diplomazia rimane agli anni ma mi chiedo se in realtà lui in questo lamento soprattutto non tenga insieme una genealogia una figlialità una successione qualunque essa sia la genealogia è la storia di Israele e quindi questo lui onora nel lamento ultimissima cosa che dico visto che è inevitabile entrare nel tema del rapporto particolare di Davide e di Gionata contro le prescrizioni di Levitico 18 e 20 ma tra Levitico 18 e 20 c'è Levitico 19 e 34 dove c'è chiaramente la ripetizione della frase con cui i due amici si riconoscono lo amò come se stesso ama il tuo prossimo come te stesso è Levitico 19 allora io devo dire di tutto il percorso è la parte che mi sollecita meno è interessante le storie sono interessanti le storie della lettura perché dicono di noi e dei nostri tabù e dei nostri e dei nostri tormenti però quello che è meraviglioso è la reticenza del testo poteva essere esplicito ma ne sapeva la reticenza deliberata del testo come se aprisse su questo tema un percorso che riguarda completamente gli umani cioè non è un fatto del cielo riguarda gli umani se la vedranno non ce la stiamo vedendo bene siamo ancora per strada grazie Sara grazie innanzitutto dell'invito che ho accettato con grande piacere insomma è veramente bello essere qui per me questa sera a parlarvi di un testo che amo molto composto o perlomeno attribuito a un personaggio che mi sta che mi sta molto al cuore ovviamente Davide Davide è stato riconosciuto in maniera proprio universale anche dagli studiosi dai biblisti delle ultime generazioni come uno dei più grandi poeti della storia questo al di fuori della Bibbia al di fuori da ogni tempo cioè il corpus poetico di Davide che noi possiamo leggere nella Bibbia che è abbastanza vasto sicuramente lo colloca tra le grandi voci poetiche della storia umana universale quindi questo è un dato assolutamente significativo poco conta se effettivamente noi non possiamo attribuire da un punto di vista filologico strettamente filologico tutti i salmi che come noto sono ascritti a Davide proprio a questo personaggio è impossibile diciamo da un punto di vista esattamente quindi non ci interessa queste sono questioni appunto di scarsa importanza in realtà questo è significativo molti studiosi hanno proprio conferito a Davide il titolo che vi ho appena detto proprio semplicemente basandosi su questo pugno di versi che compone appunto il lamento in morte di Saul e Jonathan ci basterebbe questo non ci servirebbe altro e pur conoscendo l'assoluta grandezza dei salmi insomma dobbiamo ricordare questo dato assolutamente significativo Davide Cantore giustamente Giuse diceva Cantore non è un fatto incidentale cioè Davide possiamo immaginarlo appunto Pastorello sulle rocciose alture attorno a Betlemme che magari si accompagnava zufolando durante le sue giornate abbastanza così sempre uguale di Pastore ma nel momento in cui l'unzione scende sul suo capo Davide diventa si inserisce in questa grandissima tradizione di leader poeti che la tradizione ebraica ha avuto giustamente tu ricordavi Mosè Pastore in realtà secondo la tradizione ebraica non è per niente casuale che Davide e Mosè siano stati dei pastori anzi che l'unzione o perlomeno la chiamata li abbia colti proprio entrambi nel momento in cui stavano esercitando questa loro attività perché come sappiamo Mosè stava portando al pascolo appunto le greggi del suocero e Davide non si trovava in quel momento proprio perché era al pascolo con invece il bestiame del padre il Midrash dice Bereshit Rabbaci dice che la pastorizia era un esercizio di leadership chi era un bravo pastore assolutamente sarebbe stato in grado anche di essere un bravo pastore per il popolo e non parliamo soltanto di leadership politico ovviamente perché è chiaro che la leadership se pensiamo a Mosè e se pensiamo a Davide è una leadership innanzitutto spirituale quindi delle capacità che sono innanzitutto spirituali e l'unzione per Davide coincide con il dono di una poesia più strutturata cioè non non abbiamo più soltanto l'accompagnarsi così sul Kinnor sulla cetra che non è mai disgiunta da questo personaggio nella tradizione ebraica ma abbiamo una poesia veramente più strutturata a partire da questo momento noi cominciamo a trovare sparsi nei libri di di Samuele proprio componimenti di Davide che sono un certo un certo numero Davide quindi come immagine universale di poeta e perché è universale mi piace sempre parlare di Davide del suo ruolo di poeta partendo dal verso di un grande poeta dei nostri giorni scomparso tre anni fa se non ricordo male ebreo canadese Leonard Cohen che ha iniziato proprio una delle sue poesie e canzoni non è distinguibile per me neanche in questo caso la differenza con un riferimento a a Davide la canzone è celeberrima ed è halleluja vi faccio sentire alcuni minuti I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you it goes like this the fourth the fifth the minor fall the major lift the baffled king composing halleluja 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 non me la faccio sentire tutta anche perché è molto lunga ma immagino che sentitela molti di voi la conosceranno se non la conoscete andate a cercarla perché insomma ne vale la pena queste sono proprio le parole con cui inizia questa canzone I know there was a secret chord that David played and he pleased the Lord quindi so che esisteva c'era una un accordo segreto una melodia segreta che Davide suonava e appunto rendeva in questa maniera risultava gradito al al Signore compiaceva appunto il il Signore ed è un testo quello mi sono proprio interrotta nel momento in cui Leonard Cohen fa un altro riferimento un'altra citazione della vicenda biblica di Davide è un testo completamente in tessuto di citazioni bibliche che come insomma ridevamo un pochino prima venendo qua sfruttato praticamente per funerali matrimoni battesimi comunioni e anche bar mitzvah credo in maniera del tutto folle perché è un testo dalla profonda carica erotica in cui Cohen da grande artista ebreo da grande poeta ebreo che è stato aveva dentro di sé la Bibbia e riusciva a come dire dare una interpretazione nuova e del tutto inedita anche può sembrare molto lontana del testo quindi vedete un poeta cantore che omaggia un altro poeta cantore appunto come come Davide il dono della poesia come segno della regalità e come segno anche di un'altra caratteristica perché Mosè Davide prima di loro anche Giacobbe che anche è stato poeta pure lui anche se in una misura molto minore avevano il dono che in ebraico è chiamato Ruach Akodesh vale a dire lo spirito di santità così verrebbe tradotto letteralmente che altro non è se non lo spirito di profezia questi tre elementi si sovrappongono poesia leadership profezia ed è un triangolo assolutamente inscindibile perlomeno fino alla fine dell'esistenza di Davide con Davide questo aspetto un pochino viene a cessare anche se sembrerebbe che Davide insomma lo avesse tramandato in una certa misura a Salomone ma Salomone è un'altra storia ha altre caratteristiche ha un altro percorso completamente diverso che poi arriva nella letteratura sapienziale ma passa anche lui chiaramente dalla poesia perché come sappiamo a Salomone è attribuito invece Shirashirim il cantico dei cantici quindi parlavamo di genealogie c'è una genealogia anche poetica e profetica in questo senso quindi Davide è anche profeta ecco nella tradizione cristiana soprattutto cristiana cattolica devo dire c'è un po' una certa resistenza quando parliamo di Davide come profeta Davide è il re Davide chiaramente ha altre caratteristiche ma è anche secondo la tradizione ebraica è assolutamente anche un profeta perché la parola poetica nella letteratura biblica è altra è diversa rispetto alla parola narrativa l'espressione narrativa proprio perché porta un significato molto più profondo che va oltre ecco insomma no e soltanto determinati personaggi come Davide come Mosè come Giacobbe sono in grado di possederla Davide infatti è chiamato proprio sul finire un po' della sua vita al capitolo 23 del secondo libro di Samuele nel momento in cui lui affida a un altro testo poetico il suo testamento spirituale e non solo parola di Davide figlio di Isai parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità dell'unto del Dio di Giacobbe del dolce cantore di Israele neim zemirot israel questa è l'espressione ebraica quindi in questo verso che introduce appunto il testamento di Davide le ultime parole del re appunto in cui lui consegna tutta la sua vita insomma tutto quello che ha che ha passato l'autore di Samuele II definisce Davide figlio di Isai quindi torniamo alle origini Davide pastore di Betlemme figlio di Isai l'uomo che fu elevato ad alta dignità quindi l'umile che fu elevato dal nulla e questo ci ricorda un altro brano poetico profetico che è il canto di Anna posto non a caso all'inizio dei libri di Samuele quando Anna parla proprio di Dio che fa sorgere dalla polvere appunto gli umili e già secondo la tradizione ebraica intendeva Davide che sarebbe sorto insomma da lì a un po' l'unto del Dio di Giacobbe Mesciach Elohe Yaakov Davide è l'unto più di chiunque altro questo è indiscutibile e dolce cantore di Israele la poesia vedete in questo verso che in qualche maniera racchiude tutto quello che poteva essere in poche parole l'esperienza di Davide la poesia è un elemento che non viene mai trascurato poesia che Davide ha frequentato attraversando molti generi letterari perché poi se parliamo proprio da un punto di vista tecnico abbiamo diciamo i salmi quindi quello che vengono chiamati mismorim che sono inni che prevedevano l'accompagnamento musicale questo è chiaro ma Davide anche per le sue vicende non facili le sue vicende appunto le sue esperienze di vita non facili la sua vita è attraversata da diversi lutti e varie tragedie ha frequentato in particolare il genere del lamento appunto quella che in ebraico si chiama Kina che è un genere che noi troviamo nella Bibbia in vari in vari punti ma Davide è sicuramente uno che lo ha sfruttato in maniera particolare fino poi a trovarlo in un libro intero che è interamente una Kina che è le lamentazioni attribuito appunto a Geremia quindi la Kina è proprio il lamento il lamento funebre quello che normalmente segue a dei gesti molto precisi se noi andiamo a leggere effettivamente il racconto di come la morte di Saul e Jonathan viene riferito a Davide Davide compie tutti i gesti del lutto si apre le vesti appunto piange quindi si abbandona anche a dei comportamenti di dolore che insomma in una persona della sua posizione alcuni critici si sono detti beh non si contiene quindi da sfogo ai suoi sentimenti in maniera assolutamente umana esattamente come per la gioia lo vedremo lo vediamo danzare appunto di fronte al ritorno dell'arca Davide appunto è un uomo di sentimenti quindi la Kina prevede proprio dei momenti molto molto precisi e infatti il testo il testo ebraico ci dà proprio delle indicazioni tecniche leggo prima il testo ebraico è piuttosto breve poi leggiamo tutto l'italiano l'italiano E Davide cantò questo lamento su Saul e su suo figlio Jonathan e disse da insegnare ai figli di Giuda l'arco scritto nel Sefer a Yashar. La gazzella di Israele sulle tue alture giace trafitta. Come han potuto cadere quei prodi? Non datene notizia a Gat, non annunciatelo nelle piazze di Ashkelon, non devono esultare le figlie dei filistei, non devono gioire quelle figlie d'incirconcisi. O monti di Gilboa, non più rugiada né pioggia su di voi, né campi capaci di offerte, perché fu rigettato lo scudo dei prodi, lo scudo di Saul non unto con olio. Mai l'arco di Jonathan si ritraeva priva del sangue dei trafitti dell'adipe dei prodi, né la spada di Saul tornava vuoto. Saul e Jonathan, amati e care in vita, neppure nella morte furono divisi, delle aquile più leggeri, dei leoni più possenti. Figli di Israele, piangete per Saul che vi rivestiva di scarlatto tra i fasti e appendeva fregi d'oro alle vostre vesti. Come han potuto quei prodi cadere in mezzo alla battaglia? Jonathan giace trafitto sulle tue alture, per te l'angoscia mi stringe, fratello mio Jonathan, tu mi eri caro oltremodo, è straordinario è stato il tuo amore per me, più dell'amore di ogni donna. Come han potuto quei prodi cadere e i loro strumenti di guerra per perire. è un lamento, una chinà piuttosto classica, nel senso che se esaminiamo la struttura, effettivamente il testo presenta degli elementi abbastanza ripetitivi e abbastanza topici proprio del genere. Io ho inserito anche questi due versi precedenti perché effettivamente un pochino ci ricordano anche le modalità in cui i salmi vengono presentati poi nel libro omonico con delle indicazioni proprio di esecuzione. Intanto si dice che questa è una chinà, quindi non sbagliatevi che si tratti di un altro testo. È un lamento funebre pronunciato su Saul e su suo figlio Jonathan. Da insegnare ai figli di Giuda. Quindi noi intuiamo da questo verso molto tecnico che in realtà non si tratta di... cioè il testo è inserito nel libro di Samuele perché ha una sua utilità. Effettivamente non era un testo soltanto occasionale. La poesia biblica spesso, soprattutto quando non è inserita in testi eminentemente poetici, quando è inserita in testi narrativi come i libri di Samuele, è poesia occasionale di solito. Invece qua abbiamo una poesia occasionale che però è destinata a essere ripetuta, quindi da insegnare. Quindi ha anche un valore didascalico, perlomeno così ci viene presentata questo testo. Ai figli di Giuda l'arco. Cosa vuol dire l'arco? L'arco chiaramente ci riporta in particolare all'arco di Jonathan, che è un arco che per la storia di Davide ha avuto un'importanza straordinaria perché Jonathan utilizza l'arco anche per dare segnali, comunicare con Davide in maniera tale da non essere scoperto. Quindi anche se è un lamento su Saul e Jonathan, quindi giustamente il testo mette prima il nome del re e poi il nome dell'altro, quindi del figlio. Non è tanto un lamento su Saul, questo è un lamento su Jonathan. Insomma, la figura di Saul, anche se c'è, ovviamente è in qualche modo onorata, vediamo come, però passa fatalmente in secondo piano. Jonathan ha uno spazio maggiore di quello dedicato al re di Israele. Questo non è un dato così da dimenticare. Altra cosa, questo testo, ci dice la Bibbia, è scritto nel Sefer Ayashar. Che cosa fosse il Sefer Ayashar è molto difficile a dirsi. È un testo che è citato anche nel libro di Giosuè. Avete presente quando Giosuè pronuncia quella formula con la quale arresta il sole sul monte Gabaon in maniera tale che, insomma, la vittoria possa essere consegnata ai figli di Israele. Quella formula, che è una formula poetica, magico-poetica, era inserita nel Sefer Ayashar, esattamente come questo lamento. Forse il Sefer Ayashar, hanno ipotizzato, era un libro di poesie bibliche, perlomeno pre-bibliche, che non ci sono, non c'è, non c'è arrivato nella sua interezza, ahimè, forse conteneva anche altri testi che sarebbero stato di nostro interesse. Venendo al testo in sé per sé, è un lamento classico di tipo militare, perché qua parliamo non di due persone morte in circostanze diverse, ma parliamo di due guerrieri, parliamo di due combattenti. Quindi i riferimenti sono assolutamente questi. Tant'è vero che appunto il verso iniziale dice, la gazzella di Israele sulle tue alture giace trafitta. Come han potuto cadere quei prodi? Intanto Davide si rivolge a un tu, che non è un tu generico, ma è un tu che si riferisce al monte, alle montagne, alle alture di Gilboa, che è il luogo appunto in cui avviene il fatto. La gazzella di Israele, Zvi Israele. Molto si è dibattuto sulle possibilità di traduzione di questo Zvi Israele, cioè è veramente la gazzella, cioè si tratta veramente di una gazzella, cioè di una immagine metaforica, evidentemente, con cui Davide descrive i due caduti, erano due eroi, due guerrieri. Sicuramente l'immagine della gazzella, che è un'immagine che troveremo soprattutto nel Cantico dei Cantici, appunto citata come spesso animale grazioso, leggiadro, a cui sono equiparati via via veloce, gli amanti, dovrebbe indicare più o meno questo. Altri non sono d'accordo in realtà sulla questione della gazzella e dicono che in realtà Zvi non vuol dire la gazzella, ma è un termine che significa semplicemente bellezza. Quindi potete trovare altre traduzioni italiane che dicono la bellezza di Israele, il bello di Israele. Altri ancora rendono il fiorfiore ed Israele, no? Effettivamente, secondo me, è proprio un'immagine metaforica, cioè qua è la gazzella che è utilizzata poi con tutta una serie di rimandi di vario genere. Sulle tue alture, halal, giace trafitta. Questo verbo halal è un verbo che indica proprio la perforazione, è un verbo tecnico anche questo, quando noi leggiamo halal vediamo proprio la lancia che si conficca nelle carni, quindi è un verbo veramente molto, molto forte. E poi c'è questo ritornello che appunto troviamo più volte nel testo, ech nafelu giborim. Ech, questo avverbio, ech, è un avverbio di meraviglia. Come? Come mai? Come è possibile? È lo stesso verbo, è lo stesso avverbio, scusate, con cui si apre, in una forma leggermente diversa ma è lo stesso, anche il libro delle lamentazioni. Siamo in due circostanze storiche ovviamente molto distanti, ma il senso di sgomento è lo stesso, cioè così come Geremia o chi per esso è completamente in preda, è sbalordito, no? Dice, ech, com'è possibile che Gerusalemme, la città che era ricca di popoli, ora sieda da sola e abbandonata? Com'è possibile? Ech, e qua Davide si chiede, ech, com'è possibile che questi prodi, questi giborim, la parola gibor in ebraico include la forza fisica innanzitutto, il gibor è anche la radice da cui deriva il gever, il maschio in quanto dotato di forza fisica e di potenza chiaramente, quindi è proprio il gibor è l'eroe, è il campione che salva il popolo, che riesce a risolvere con una unica azione determinante appunto la battaglia. Gibor sarà, è stato, anche Davide, quando chiaramente ha risolto, anche se non aveva per niente il physique du rôle del gibor, e in questa c'è la differenza tra lui e Saulo ovviamente, il conflitto con i filistei, no? Ma i giborim non possono cadere, come mai? Com'è possibile che siano caduti quei prodi? Chiaramente è una domanda retorica, sta a indicarci tutto lo stupore e lo sbalordimento di chi pronuncia la chinat. E poi c'è quest'altro aspetto, non datene notizie a Gat, non annunciatelo nelle piazze di Ashkelon, Gat e Ashkelon, Ashkelon appunto in particolare, erano due città proprio dei filistei, i due centri importanti chiaramente della cultura, della popolazione dei filistei, e questa idea, non ditelo ai filistei quello che è successo, non raccontatelo, questo è un topos, quindi un motivo ricorrente, di questo genere di lamenti, cioè è successo un fatto incredibile, assolutamente impossibile a credersi, cioè gli eroi sono morti, sono periti, sono caduti, non raccontatelo ai nemici, un po' perché c'è chiaramente, è una questione proprio anche di sicurezza militare, cioè non andate a raccontarlo ai nemici che il re è morto, perché siamo in una posizione chiaramente di debolezza, quindi rischiamo un attacco improvviso, ma qua Davide dice, non devono esultare le figlie dei filistei, non devono gioire quelle figlie di incirconcisi, allora è un verso molto importante perché ci dice varie cose, anche da un punto di vista proprio della tecnica, della poesia, cioè tanto il lamento funebre, quanto il suo genere opposto, cioè il canto di vittoria, nella letteratura biblica, sono genere di assoluto appannaggio femminile, se noi leggiamo la letteratura biblica vediamo anche che di solito chi piange i morti sono le donne, anche componendo dei versi, e chi invece accoglie i vittoriosi sono sempre le donne, e questo appunto l'ultima edizione di Effetto Bibbia si è parlato dei giudici e della figlia di Iefte e quant'altro, insomma è un qualcosa che quindi si conosce molto molto bene. Davide si appropria di un genere che è femminile, che è quello del lamento, e nello stesso tempo richiama quello che sono, come dire, che è il genere contrapposto, che potrebbe invece nascere in quel momento presso i nemici, cioè il canto di vittoria, i nemici, le donne nemiche cosa fanno? Esultano perché il re degli ebrei è morto, quelle figlie di incirconcisi. Qua c'è proprio, in questo verso, si coglie quello che è un dolore puro, veramente un dolore puro, e un desiderio anche di protezione, io trovo, nei confronti dei defunti, che hanno subito una sorte incredibile, e non devono subire anche, ovviamente, il ludibrio dei nemici, quindi si usa questa parola, che è un termine normalmente usato in modo molto dispregiativo, arelim, arel, arel è colui che non è nel Brit, non è nell'alleanza di Abramo, quindi non è circonciso, quindi non è appartenente al popolo ebraico, ed è una connotazione, proprio che è fisica, ma non è soltanto fisica, è nello stesso tempo un rimando anche spirituale, etico, morale, quindi quelle figlie di incirconcisi non devono osare, alzare la voce, appunto contro Saul e Jonathan. Altro aspetto assolutamente ricorrente, il richiamo al luogo dove sono caduti gli eroi, il luogo che ha raccolto anche il loro sangue, le loro spoglie, insomma, o Monti di Gilboa, che voi siate maledetti, vuole dire loro Davide, non glielo dice in maniera diretta, ma utilizza una maledizione trattenuta attraverso uno dei motivi biblici più ricorrenti, vale a dire il riferimento all'acqua, alla pioggia, non più rugiada né pioggia su di voi. Come è noto nella letteratura biblica, l'assenza di pioggia indica l'assenza del favore divino. Se andiamo a leggere i libri dei re, nel momento in cui appunto succede che il popolo ebraico si distrae, diciamo un po', e va verso Baal e altri idoli, Elia chiude i rubinetti mentalmente. Ma ancora prima, se leggiamo nella Torah, nello Shema Israel, nella preghiera dell'ascolto Israele, è detto, se tu ascolterai questi miei precetti e li metterai in pratica, allora avrai Ioreul Malkosh, pioggia e rugiada, nel tempo stabilito, cioè nel tempo giusto, quindi non la pioggia e la rugiada fuori stagione che rovinano il raccolto, come è noto, ma la pioggia e la rugiada nel momento in cui devono esserci, e quindi avrai il mio favore, avrai la mia presenza accanto a te. Quindi il fatto che Davide dica voi, monti di Gilboa, non più rugiada, né pioggia su di voi. E' interessante anche l'ordine, lui dice prima la rugiada e poi la pioggia. Di norma è il contrario, nella letteratura, negli altri passi biblici in cui troviamo questo genere di discorso. Non è casuale, perché la rugiada, la rugiada, ancora più della pioggia, è segno della presenza divina. Avete tutti presente, l'episodio della manna? Chiaramente, no? Quando gli ebrei vanno a raccogliere la manna nei campi, appunto, per sfamarsi, in realtà prima della manna c'è una leggera rugiada sul terreno. E poi da questa rugiada nasce questa cosa, manhu, questa cosa che non sanno nominare, appunto la chiamano che cos'è, appunto che poi sarà la manna. Quindi, anche Gedeone, sì sì, la rugiada è proprio un segno di una presenza che, anche la pioggia però, è un segno proprio di assistenza, di conforto, è il conforto di Dio all'uomo. Ecco, insomma, quindi si parte dalla rugiada, quindi la rugiada significa non ci sia più rugiada, tu non potrai più, sarai suolo assolutamente maledetto, maledetto e poi ovviamente la pioggia, né campi capaci di offerte. Quindi i tuoi campi, noi parliamo di monti, quindi può sembrarci strano parlare di monti e campi nello stesso momento, ma se vedete questa è un'immagine proprio di Gilboa, come oggi, in realtà è una zona molto feconda da un punto di vista agricolo, non siano più capaci, ma non di offerte a caso, di terumot, le terumah, la terumah è proprio l'offerta quella che viene fatta che ne so alla Pentecoste, a Shavuot, quindi è l'offerta più significativa. Perché? Perché fu rigettato lo scudo dei prodi, lo scudo di Saul, velì mashia bashamen, non unto con olio. Ora, queste poche parole che sembrerebbero essere assolutamente coerenti con quello che lui ha detto finora, in realtà cominciano a porci qualche, come dire, metterci un po' qualche pulce nell'orecchio. Finora non abbiamo parlato, abbiamo preso il testo così com'è nella sua letteralità, cioè un lamento, sincera espressione del dolore di Davide per la morte di questi due personaggi. Che Davide provasse un sincero, grande, straziante dolore per la morte di Jonathan, lo vedremo sul finale, è scontato. è ovvio. Ma che Davide provasse lo stesso sentimento per Saul, ma, non lo so. Diciamo che prima parlavamo della reticenza, della reticenza della narrazione biblica, della reticenza del testo biblico in generale, anche del testo poetico, è il caso di chiamare in causa questa reticenza anche in questo punto. Il lamento di Davide sulla morte di Saul e Jonathan, se ha una parte sincera per Jonathan, ha una parte un po' più ambigua per Saul. Noi non siamo sicuri che effettivamente Davide provasse questi sentimenti, come è, come dire, abbastanza comprensibile, insomma, il rapporto tra Saul e Davide è stato ovviamente molto complicato nel momento in cui Saul ha cominciato a voler uccidere ovviamente Davide in quanto Davide ha avuto l'unzione al suo posto. Davide è diventato il Mashiach, il nuovo Mashiach, anzi, il vero Mashiach, perché Saul, come è noto, è il re che piaceva al popolo, quello che aveva appunto il physique du rol, alto, prestante e robusto. Davide, come dice Samuele quando lo unge, è quello su cui, come dire, su cui Dio posa lo sguardo e lo sguardo di Dio non è lo sguardo dell'uomo, no? Quindi la differenza sta appunto tutta qua. E il fatto che lui dica a questo punto lo scudo di Saul non unto con olio blì Mashiach basciamen, cioè usa esattamente la stessa parola Mashiach che si usa anche per indicare l'unto divino nel senso consacrato re. secondo molti è un'espressione abbastanza ambigua che, come dire, salva un po' le apparenze perché l'apparenza del testo è molto lineare, è un lamento, non ci discostiamo. ma getta qua e là qualche ombra lasciandoci dire che in realtà come dire è più un lamento di circostanza nei confronti di Saul che non un lamento sincero. Tutto si gioca attorno a questa parola Mashiach nel rapporto tra Davide e Saul. È innegabile. E quindi lui dice Saul Bli Mashiach Bashamen in realtà quello che è che non è Mashiach Bashamen cioè non è unto con l'olio è Saul stesso non è soltanto lo scudo cioè qua sembrerebbe essere un riferimento all'usanza così è stato interpretato dagli studiosi che gli scudi degli eroi venivano unti in qualche maniera con l'olio però un po' tirato per i capelli in verità invece questo come modo per dire insomma sì piango la tua morte eccetera però tu ormai sei Bli Mashiach Bashamen cioè non sei tu l'unto del Signore insomma sono io Davide ha una profonda consapevolezza insomma di questo e qui vabbè poi i versi continuano in maniera abbastanza anche convenzionale direi mai l'arco di Jonathan si ritraeva priva del sangue dei trafitti dell'adipe dei prodi quindi questo motivo ovviamente del Keshet quello che viene ricordato anche all'inizio l'arco è come vi dicevo il titolo della chinà stessa quindi l'arco il strumento di Jonathan è il titolo della chinà è un altro elemento che ci fa dire beh allora è Saul che era il re l'oggetto del lamento o è Jonathan o sono tutte e due c'è una certa una certa disparità ecco se andiamo a vedere se noi ci immaginiamo appunto giustamente Giuse diceva prima Davide mette insieme Saul e Jonathan nello stesso lamento ci può sembrare chiaramente un fatto giusto per molti aspetti ma Saul era il re o no? Saul era il re era lui che doveva avere lui doveva avere in teoria come dire se interpretiamo perlomeno storicamente parlando il suo lamento dedicato espressamente al re e poi un lamento privato invece Davide li mette insieme non può fare diversamente perché in realtà la storia anche le storie di questi personaggi sono fatalmente unite fin dal momento dal primo momento in cui si incontrano insomma quindi Davide non può scenderle proprio anche per questa ragione ma non può scenderle anche perché probabilmente gli sarebbe stato anche un po' difficile fare tutto un lamento sincero di dolore su Saul e infatti anche qua quando si racconta in questo verso in cui si parla degli strumenti immaginate un lamento su morte in guerra le armi degli eroi sono un motivo convenzionale importantissimo se andiamo a leggere anche l'Iliade per dire l'arme degli eroi che caratterizza ciascun eroe insomma è un elemento anche distintivo della figura stessa e qua l'arco di Jonathan è citato prima della spada di Saul d'accordo che si dice neanche la spada di Saul tornava a vuoto ma è detto un po' così anche con poche parole invece leggiamo l'immagine rileggiamo l'immagine che è destinata a Jonathan l'arco di mai l'arco di Jonathan si ritraeva privo del sangue dei trafitti dell'adipe dei prodi è molto più ampia molto più dettagliata più ricca l'immagine destinata a Jonathan Saul si prende soltanto beh sì la sua spada non tornava a vuoto va bene anche lui effettivamente qualcosa faceva ma è Jonathan questo come dire è molto chiaro e poi arriviamo a un altro verso molto discusso cioè Saul e Jonathan amati e cari in vita neppure nella morte furono divisi ora qua già abbiamo dei grossi problemi ma molto grossi perché l'ebraico dice Shaul vionatan a ne avim vea neimim bechaiem allora amati ne av ne avim è il verbo è il verbo ebraico amati da chi da chi amati da chi dal popolo beh Saul amato dal popolo Saul amato da Davide sì forse all'inizio probabilmente c'era un sincero affetto anche per rapporto ovviamente familiare eccetera da Dio Saul non mica tanto è in questione è in questione e come dire capite che è una parola sola che anche qua ci sembra molto corretta la sua posizione siamo in un lamento stiamo celebrando la vita e la morte di due personaggi diciamo che sono stati amati ma Saul è stato amato davvero Saul è un personaggio come giustamente Alfieri ha colto nella sua resa poi letteraria è un personaggio tragico veramente fino alla fine fino al midollo non è un personaggio amato non è un personaggio amato da nessuno non è amato da nessuno in parte per responsabilità personale in parte per le circostanze che effettivamente si pongono possiamo dire che Jonathan e Saul si amavano se andiamo a riprendere anche qua la vicenda Saul nel momento in cui capisce che insomma tra Jonathan e Davide c'è una affinità è un legame che va anche oltre il legame appunto tra padre e figlio quando Saul intuisce che Jonathan ha riconosciuto Davide come Mashiach beh gliene dice di tutti i colori usa degli improperi veramente molto molto gravi che in realtà mostrano come il rapporto anche tra padre e figlio sia ormai fatalmente compromesso possiamo però dire che Jonathan colui che amava ed era amato era Jonathan in verità Jonathan amava chi Jonathan amava sicuramente Davide come poi vedremo ma Jonathan amava anche Saul perché nel momento in cui Jonathan riconosce Davide come vero unto di Dio e gli dà la sua fiducia gli dà il suo sostegno gli dà il suo amore rimane però con Saul rimane però col padre e muore con il padre e Jonathan colui che ama ed è amato anche in questo caso come dire il testo è ambiguo e se noi andiamo a leggere tutto se noi andiamo a prendere come dire questa vicenda così complessa di storia familiare e sentimentale noi ci rendiamo conto che questi dieci undici versi sono problematici ma molto problematici o perlomeno ci lasciano degli spazi di interpretazione che sono vastissimi e che non ci permettono di prendere il testo così com'è e dire ah bene lo accetto è un lamento funebre è un lamento funebre ma con delle grosse delle grosse problematicità amati e cari in vita appunto anzi poi di solito la traduzione rende cari l'ebraico dice neimim gradevoli piacevoli non è proprio un aggettivo che si si adatta al personaggio di Saul questo in nessuna delle sue fasi in nessuna delle sue fasi più delle acuile più leggeri dei leoni più possenti anche qua abbiamo un'immagine ovviamente convenzionale il paragone con il mondo animale che sempre ritorna nella poesia biblica per indicare le caratteristiche poi dei ghiborim degli eroi caduti ecco l'unico verso veramente dedicato solo a Saul è questo figli figli di israele piangete per Saul e di nuovo qua torniamo al motivo che erano le donne a piangere per i morti e non gli uomini comunque che vi rivestiva di scarlatto tra i fasti e appendeva fregidoro alle vostre vesti beh qua c'è tutto un riferimento alla regalità all'opulenza alla ricchezza non c'è altro però l'unico verso che è destinato a Saul non ci parla di Saul non ci parla delle sue capacità di re non ci parla delle sue doti ci dice che lui vestiva faceva sì che le donne potessero rivestirsi in maniera ricca e quindi è tutto un aspetto puramente esteriore non c'è nulla dell'interiorità di Saul o no non c'è niente ci sono soltanto noi vediamo delle donne riccamente vestite e quindi devono piangere per Saul per questo non perché Israele ha perso un leader spirituale unico non è così David non lo può dire veniamo al finale che è poi quello più ricco anche di come dire di problematicità interpretative se così vogliamo come hanno potuto quadere quei prodi in mezzo alla battaglia quindi di nuovo questo questo ritornello che attenzione viene messo qua perché in qualche maniera si chiude una parte del 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 componimento stesso della china intera cioè qua finisce con queste parole finisce il lamento comune ai due personaggi a Saul e Jonathan gli ultimi versi sono tutti per Jonathan e sono molti di più di quanti non siano dedicati a Saul quindi lo squilibrio è assolutamente evidente tant'è vero che questo verso in cui si richiama come hanno potuto cadere quei prodi in mezzo alla battaglia Jonathan giace trafitto sulle tue alture cioè il grido di dolore vero e proprio cioè come dire io finora ho detto sono caduti gli eroi sono sbalordito per entrambi e va bene però il mio sbalordimento vero il mio dolore vero il mio sgomento appartiene a questa visione che io non posso soppartare cioè Jonathan che giace trafitto sulle tue alture e in realtà siccome all'inizio torno brevemente indietro la gazzella di Israele sulle tue alture giace trafitta così abbiamo aperto il lamento a questo punto ci chiediamo ma non è che la gazzella invece di essere un'immagine comune a questi prodi a Saul e Jonathan sia soltanto Jonathan che in quanto oltretutto giovane uomo vigoroso combattente soldato forse effettivamente meglio si adatta a questa immagine di rapidità di leggiadria di capacità anche muscolare no del dell'eroe e infatti ci sono effettivamente molti studi molti traduttori che non si pongono nessun dubbio e dicono no questa gazzella non ci sono storie questa gazzella non è Saul questa gazzella è Jonathan fin dal principio mettiamoci in testa che questo lamento anche se è comune è comune per circostanza perché le convenzioni imponevano quello Davide non era solo in quel momento Davide aveva davanti tutta una serie di persone che insomma magari stavano anche cercando di capire le sue reazioni quindi le reazioni di Davide tant'è vero che Davide reagisce come sappiamo alla notizia della morte di Saul in una maniera assolutamente violenta no perché fa uccidere colui che gli riporta la notizia e anche in questa azione che noi possiamo prendere chiaramente in maniera letterale cioè una reazione comprensibile a una notizia insopportabile in realtà Davide è molto furbo perché lui dice fondamentalmente che come dire l'unto di Israele non si tocca è intoccabile quindi lo dice anche di se stesso perché sa di essere lui l'unto di Israele quindi vedete come in realtà tutto sia come dire ricco di sfumature di varia natura e poi veniamo appunto a uno dei versi più letti e peggio interpretati della storia della letteratura biblica Tsarli Alecha Achie Onatan Tsarli letteralmente questo queste parole significano semplicemente è stretto a me poi traduzioni l'angoscia mi stringe perché dobbiamo metterci qualcosa è troppo conciso l'ebraico rispetto all'italiano Tsarli Alecha per te riguardo a te l'angoscia mi stringe Tsarli la mia situazione è quella di essere Tsar stretto l'ebraico molto spesso come dire quando descrive le sensazioni anche le sensazioni più comuni di freddo di calore eccetera proprio le trasferisce trasferisce direttamente come dire la sensazione sul corpo di chi parla appunto Hamli o caldo è calore a me quindi dentro di me è qualcosa di molto viscerale Yonatan è chiamato Achì fratello mio tu mi eri gradevole mi eri caro me od moltissimo straordinario è stato il tuo amore per me più dell'amore di ogni donna l'abbiamo già detto questo verso ha fatto sì che anche in maniera molto tradizionale la vicenda tra Davide e Jonathan il rapporto personale tra Davide e Jonathan fosse letto come un rapporto omosessuale omoerotico insomma comunque lo vogliamo definire chiaramente non ci si può soffermare soltanto su poche parole tra l'altro colte in una circostanza come questa che è la morte ma tutta la vicenda dei due personaggi va letta alla luce di queste parole Achì Jonathan fratello mio Jonathan io ve lo dico subito per quanto mi riguarda il rapporto tra Davide e Jonathan non era un rapporto omosessuale nel senso che noi comunemente attribuiamo a questo termine non è una questione di come dire di tabù o di pudicizie varie è semplicemente questo cioè Achì Jonathan fratello mio Jonathan d'accordo che la parola Ach fratello nella Bibbia è usata e declinata in moltissimi modi per cui anche persone che non dovrebbero essere definite tali sono chiamate così ma questo era Jonathan per Davide Ach un fratello la fratellanza la fratellanza appunto ripensiamo alla vicenda alle origini di Davide all'unzione di Davide a cui abbiamo fatto già riferimento prima no Samuele arriva a casa di Isai con appunto l'obiettivo di ungere il nuovo re e Isai tira fuori questa come dire questa teoria di figli tutti appunto nerboruti muscolosi e molto prestanti che vengono tutti scartati questo non c'è questo non c'è quello che voglio Samuele dice è il fratellino quello che secondo la tradizione ebraica poteva anche essere un figlio illegittimo perché la posizione di Davide come possiamo leggere in questo passo è una posizione difficile cioè perché tutti gli altri fratelli stavano lì a casa belli tranquilli ad aspettare Samuele e Davide era da solo a pascolare piccolo appunto ragazzino qual era il bestiame sul tra le appunto le rocce di di Betlehem di Betlehem la tradizione ebraica è abbastanza serena in questo Davide evidentemente o era un figlio illegittimo o comunque era un figlio trattato male dalla famiglia in generale e dai fratelli in particolare che lo volevano tenere ai margini quindi già Davide nasce in una famiglia in cui il rapporto di fratellanza è problematico quando arriva nella famiglia di Saul lui e Jonathan si riconoscono a vicenda si riconoscono come Achim come fratelli e questo scambio anche di armi che chiaramente richiama lo scambio di armi dell'Iliade no quindi che è un segno proprio di vicinanza di unione di fratellanza un vincolo appunto inscindibile tra due giovani uomini che usano le armi perché le circostanze appunto lo imponevano e che si sono riconosciuti l'uno nell'altro Davide riconosce in Jonathan il fratello che non ha mai avuto e l'appoggio che deve avere per salvarsi la pelle insomma in quel ginepraio che è la famiglia di Saul insomma Jonathan riconosce in Davide il Mashiach riconosce in Davide che è l'unto che è quello che colui sul quale si è posato in quel momento lo sguardo di Dio che non è più suo padre poi lui sceglie di rimanere con suo padre questo è un altro discorso perché Jonathan ama l'amore appunto è una caratteristica che proprio definisce il personaggio di Jonathan sia in quel amati cari che abbiamo visto prima che è riferito anche a Saul ma così solo per circostanza qua invece lo vediamo molto bene il tuo amore la parola amore in ebraico definisce ogni genere di amore anzi la prima volta che questo verbo è citato questa radice citata tra l'altro non definisce un rapporto di amore come dire erotico se così vogliamo o sentimentale tra un uomo e una donna ma è citato nel libro della Genesi quando Dio dice ad Abramo prendi tuo figlio quello che tu ami e tasher a hafta quindi è un rapporto di amore che è molto diverso da quello appunto del rapporto sentimentale diciamo erotico ma è un rapporto profondo un rapporto familiare ecco quindi la parola Ava anche se poi la troviamo anche nel Cantico dei Cantici perché poi i commentatori dicono quelli che sostengono l'omosessualità dicono beh c'è la parola Ava amore la troviamo anche nel Cantico dei Cantici dove è scritto forte come la morte e l'amore e l'amore del Cantico dei Cantici non è l'amore non è un amore come dire privo di accenti erotici no però anche l'amore del Cantico dei Cantici è un amore che passa attraverso una profondità che è quella del rapporto fraterno ah se tu fossi mio fratello dice la donna all'uomo nel Cantico dei Cantici quindi la parola Ava è un amore che è a 360 gradi non è come dire sfuggia ogni definizione e volerlo connotare per forza è un grave errore secondo me niflatà è stato proprio straordinario meraviglioso nifla la parola nifla che definisce l'amore di Jonathan indica proprio qualcosa che è fuori dall'ordinario soprannaturale quasi tant'è vero che il prodigio in ebraico è chiamato con una parola che deriva dalla stessa radice pele più dell'amore delle donne questo è come dire il punto cruciale beh chiunque abbia avuto un'esperienza di amicizia profonda ma veramente profonda cosa che ci auguriamo tutti ovviamente ci accade almeno una volta nella vita sa che quando esiste un rapporto del genere l'amore che possiamo provare per un uomo per una donna a seconda ovviamente delle attrazioni non vale quanto un'amicizia un vincolo così saldo che va al di là del come dire della guerra che va al di là dei conflitti che va al di là della morte perché questo è l'amore il rapporto che lega David Davide e Jonathan è un amore che va al di là di tutto Jonathan rischia la vita per Davide perché nel momento in cui come dire passa informazioni a Davide anche se in maniera ovviamente criptata rischia la vita si espone in ogni modo rischia la vita e muore con Saul l'amore è quello che contraddistingue questo personaggio Jonathan è veramente l'esaltazione dell'amore e Davide da grande come dire poeta da grande conoscitore dell'animo umano e da grande amico di Jonathan e fratello lo riconosce e lo celebra appunto in questo modo poi ognuno legge come dire può leggere il testo come più gli piace ma la storia dice quello che dice insomma sappiate che addirittura lo scambio di armi tra Davide e Jonathan è stato interpretato da alcuni come un rito nuziale non sto scherzando c'è veramente un commentatore americano se non ricordo male che dice beh questo scambio di armi in realtà è come uno scambio di doni doni di nozze per cui è come se Davide e Jonathan si fossero sposati chiaramente poi c'è anche io credo in queste letture così anche profondamente orientate di questa di questa vicenda io credo che ci sia più che altro il bisogno nostro contemporaneo di legittimare ciò che purtroppo non ha avuto spazio e legittimazione nella società molto spesso quindi trovo che sia anche come dire comprensibile da parte ovviamente di molti lettori e biblisti omosessuali cercare qualcosa che dia loro ovviamente un sostegno perché il sostegno è mancato nella realtà ma è un problema come dicevi giustamente tu è un problema nostro non è un problema ovviamente del del testo biblico no e veniamo appunto al finale appunto di nuovo con questo come hanno potuto cadere quei pro di cadere e i loro strumenti di guerra perire che appunto chiude normalmente di nuovo chiude appunto la il brano vedete questa immagine come potete facilmente notare diversamente da quelle che abbiamo visto ad accompagnare il testo è un'immagine della nostra contemporaneità siamo in Israele appunto nel nel kibbutz di Kiriatama vicino nei pressi del kibbutz di Kiriatama dove sorge lo vedete una gazzella questo è un monumento eretto se non sbaglio negli anni settanta per alcuni eroi di Israele caduti durante le varie le varie guerre in particolare durante la guerra del 48 nella nella zona e proprio oltre ad aver fatto questo monumento su cui chiaramente troneggia questa gazzella c'è proprio una appunto una una specie di targa dove sono riportati esattamente questi versi come appunto hanno potuto quei prodi cadere e i loro strumenti di guerra perire questo è un altro aspetto che mi preme sempre molto ricordare perché chiaramente in Israele nell'Israele odierno nell'Israele contemporaneo questo è molto più facile perché siamo veramente nei luoghi dove questi fatti si sono si sono svolti questo è molto evidente quindi il legame con il testo risulta amplificato dalla geografia dell'uogo questo è ovvio ma al di là di ciò questo lamento in morte di Saul e Jonathan è molto spesso utilizzato nella ahimè militarizzata vita di Israele come un riferimento a quella fratellanza nelle armi sotto le armi che si può creare ovviamente tra i vari soldati tant'è vero che molto spesso quando purtroppo muoiono giovani soldati israeliani il verso quello che vi citavo prima Saul e Jonathan amati e cari in vita neppure nella morte furono divisi è utilizzato molto sovente nei necrologi o comunque negli epitaffi o anche proprio nei discorsi funebri proprio in un voler dimostrare come il legame con il testo biblico anche se non c'è da un punto di vista religioso perché non abbiamo non è un legame di tipo religioso è un legame puramente testuale però è il riferimento culturale costante anche se noi come dire svuotiamo la bibbia del del suo significato religioso che può sembrare folle ma i sionisti l'hanno fatto creando quella che molti hanno definito una bibbia terrena senza cielo quello che resta però è un profondo legame testuale culturale è un riferimento che non viene a mancare mai appunto neanche in contesti come questi per cui jonata in particolare essendo giovane un giovane un giovane soldato chiaramente più di saul è anche diventato e assurdo fondamentalmente a simbolo di tutti i caduti giovani caduti di israele e al di là chiaramente di tutti i discorsi che si possono fare al riguardo quello che è profondamente significativo è proprio questo il legame con il testo che è quello che purtroppo a noi mancano ci manca perché è chiaro che siamo in una posizione completamente diversa ma abbiamo un po' perso questa capacità di vedere il testo biblico come il nostro riferimento culturale principale letterario e culturale secondo me questo è qualcosa che va riscoperto questo è quanto volevo dirvi questa sera grazie grazie grazie